Angelo, parliamo delle iniziative per questo Santo Natale del Teatro della Maruca, a cominciare dal 27 dicembre. Abbiamo proposto un cartellone natalizio, se così si può dire, con diversi spettacoli, sia per adulti che per le famiglie. Il secondo, in cartellone, è il 27, con Bollari, Memorie dallo Ionio, poi 28, 29 e 30, rispettivamente Pinocchio, Zampalesta e Lozicrapu e Zampalesta o Cane Tempesta, per le famiglie. Chiaramente dobbiamo dire che questo vi fa onore perché saranno tante le persone che verranno, perché c'è voglia di teatro, c'è voglia di un pomeriggio, di una serata tranquilla, ma soprattutto c'è voglia di dare ai bambini l'opportunità di divertirsi. È un'opportunità anche particolare, perché comunque stare insieme un'oretta in un posto comodo, riscaldato, a vedere una cosa simpatica, è una bella opportunità, soprattutto nel periodo delle feste, dove comunque c'è tanto tempo a disposizione, quindi si può trascorrere anche così una giornata. Parliamo anche dell'incasso che sarà devoluto al rifugio Empa di Crotone, quindi la vostra sensibilità anche verso gli animali. Sì, sì, anche e soprattutto verso gli animali. Il 30, l'ultimo giorno della nostra rassegna, lo spettacolo non avrà biglietto, ma lo faremo a cappello, cioè alla fine dello spettacolo metteremo un cappello per terra e il pubblico potrà liberamente mettere un'offerta. Tutta l'offerta verrà devoluta all'EMPA, al rifugio Canino di Crotone, che ha bisogno, perché comunque, visto le ultime intemperie, si sono distrutte le strade, hanno sempre più difficoltà a raggiungerlo. Lì dove non arrivano gli enti locali, come forma di solidarietà si mette anche la cultura e quindi il vostro teatro. Noi ci siamo sempre, se ognuno facesse quel poco che gli compete, forse tutti staremmo un po' meglio in questa città. Senti, come artisti di strada ci siete dappertutto ormai? Ci proviamo, cerchiamo anche di fare delle selezioni rispetto alle richieste che arrivano, perché tante volte le richieste sono un po' fuori luogo, quindi cerchiamo di scegliere le cose che più ci sentiamo vicine. In ogni caso, questo progetto degli artisti di strada e vedere voi del Teatro della Maruca farlo è sicuramente bello per i nostri concittadini, perché quando ci siete portate allegria. È bello, sì, quando sanno che ci siamo noi si avvicinano anche di più, si incoraggiano ad uscire con i piccoli, siamo un po' pigri in questa città, quindi tante volte anche sapere che ci siamo noi sul lungomare o da qualche altra parte incoraggia i genitori ad uscire di casa con i bambini. Avete nuovi progetti per il 2019? Ne abbiamo diversi, li stiamo portando avanti tra produzioni e festival, non vogliamo anticipare ovviamente, ma daremo a te la priorità come sempre, vi faremo sapere, sì, ci sono. Facciamo gli auguri di buone feste? Sì, un sentito auguri da tutto il cast del Teatro della Maruca, che siano delle feste serene e un buon anno, un buon 2019 a tutti.